ciao uncinetine in questo tutorial vi voglio far vedere un punto veramente speciale che sta benissimo su una coperta da neonato ma anche come vedete su un cappellino io ho fatto un cappellino per quelle che non l'avete visto ancora sul mio profile di facebook eccolo qua il punto si lavora un po non un po ma proprio tipo filet con dei puff dei punti puff cioè una combinazione diciamo tra ecco qua si vede meglio questo diciamo è la base per i punti puff e si lavora così quindi il punto è un almeno così sono riuscita io a vedere un multiplo di 7 più 3 se volete lavorare ok lavorarlo con così dritto cioè piano da fare una copertina non lo so una sciarpa anche viene bellissima lavorate multiplo di 7 più 3 cioè aggiungete ancora 3 punti 3 catenelle non per la base invece se volete lavorarla in tondo questa io l'ho cominciata da giù non guardate qua che ho messo aggiunto dopo la il bordino no ho cominciato proprio da giù e se volete lavorare in tondo lavorate fate una catenella per la circonferenza diciamo della vostra testa che sia multiplo di 7 poi chiudete proprio in tondo fare facendo attenzione che non si giri il giro le catenelle no che non si girino perché dopo viene viene fuori un casino quando cominciamo a lavorare il primo giro di punti però mettiamoci a lavorare quindi per iniziare adesso io faccio qua un campione no perciò non è che ok così mettiamoci a lavorare facciamo così 7 quindi facciamo set da 7 catenelle 3 4 5 6 7 e andiamo avanti così 1 2 3 4 5 6 7 e andiamo avanti abbiamo 14 1 2 3 4 5 6 7 più 7 sono 21 e facciamo ancora 1 2 3 4 5 6 7 21 più 7 sono 28 e diciamo per questo campione a me va bene 28 più ancora 3 catenelle come vi dicevo se lavoriamo così non in tondo ciò dritto piano non lo so piatto come volete voi non dobbiamo dobbiamo aggiungere ancora 3 catenelle bene questo è il primo giro no non è il primo giro questo sono le catenelle insomma adesso per il primo giro facciamo ancora una catenella è nell'ultima lavorato penultima lavorata diciamo facciamo un primo punto alto noi no ho fatto una catenella solo per aiutarmi a lavorare il primo punto alto no ok 1 poi lavoriamo 2 2 3 4 4 5 5 6 7 quindi 7 punti alti nel nelle prime 7 catenelle ok facciamo una catenella ok facciamo una catenella non saltiamo niente nella prossima catenella facciamo un punto alto e ancora 6 nelle prossime 6 catenelle quindi l'idea è che questo primo giro sarà un giro di 7 punti alti gruppi da 7 punti alti divisi tra di loro da una catenella ok non saltiamo niente però 3 4 5 6 7 ok non saltiamo niente facciamo una catenella e cominciamo direttamente nella prossima catenella un altro gruppo da 7 punti alti nelle prossime 7 catenelle no in ognuna delle prossime 7 catenelle mettiamo un punto alto ecco per per essere più chiara per tutte quindi facciamo così e ci rimane questo diciamo spazio tra i gruppi nostri gruppi da 7 catenelle 1 2 3 4 5 5 6 6 7 poi una catenella e di nuovo 7 proprio nella prossima quindi non saltate nessuna catenella facciamo una catenella e continuiamo proprio come se niente fosse 2 3 4 5 6 e 7 bene una catenella adesso ci sono rimaste 3 catenelle e in ognuna di queste 3 catenelle mettiamo un punto alto 2 3 ok quindi abbiamo una cosa del genere adesso noi abbiamo questi gruppi da 7 catenelle da 7 punti alti divisi tra di loro da una catenella ok bene questo è il primo adesso per il secondo facciamo così ci giriamo facciamo una catenella per girare il lavoro nel primo facciamo un punto sopra il primo punto basso facciamo un punto basso un punto alto scusate un punto alto poi una catenella e saltiamo stavolta un punto alto e nel terzo qua facciamo un altro punto alto così poi poi una catenella saltiamo questa catenella qua e nel primo punto alto dopo la catenella passata cioè saltata la catenella facciamo un punto alto una catenella saltiamo un punto alto e nel prossimo facciamo un punto alto quindi riassumendo ho fatto un punto alto ho fatto un punto alto ho fatto 1 catenella ho fatto un punto alto ho fatto 1 catenella ho fatto 1 catenella ho fatto 1 catenella ho saltato 1 punto alto nel prossimo faccio 1 catenella ho fatto 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 2 catenella ho fatto 1 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 caten bene, adesso nei prossimi due punti alti, sopra i prossimi punti alti, due, lavoriamo uno e due punti alti, due ok? poi facciamo di nuovo così, vediamo che qua abbiamo la nostra catenella, no? come vi dicevo abbiamo i gruppi da sette, ecco, all'inizio del gruppo da sette abbiamo fatto una casella, poi uno, due, un gruppo chiuso diciamo da tre punti alti adesso alla fine del gruppo da sette facciamo un'altra casella, quindi una catenella, saltiamo un punto alto e nel prossimo facciamo un punto alto ok? poi qua abbiamo la catenella, lavoriamo una catenella, saltiamo la catenella qua e nel punto basso, alto, scusate, facciamo un punto alto poi una catenella, saltiamo un punto alto, nel prossimo facciamo un punto alto bene, e adesso ne completiamo ancora due punti alti, uno, due, ecco, due punti alti e questo è il disegno, proprio sopra lo spazio da una catenella qua abbiamo una casella alla sua destra una casella, alla sua sinistra una casella divisi tra di loro queste tre caselle da tre punti alti, vedete? uno, due, tre caselle, tre punti alti, uno, due, tre caselle, tre punti alti andiamo così fino alla fine del nostro giro, adesso facciamo una catenella, saltiamo un punto alto entriamo nel prossimo, facciamo un punto alto, che è l'ultimo, diciamo dal gruppo, no? dal gruppo da sette una catenella, saltiamo la catenella del primo giro e nel punto alto facciamo un punto alto una catenella, saltiamo il punto alto e nel prossimo facciamo un punto alto poi ne facciamo ancora due punti alti in ognuno dei prossimi due punti alti facciamo un punto alto praticamente, così e di nuovo una catenella saltiamo un punto alto, nel prossimo facciamo un punto alto una catenella, saltiamo la catenella nel primo giro e nel punto alto facciamo un punto alto una catenella saltiamo un punto alto e nel prossimo facciamo un punto alto poi facciamo uno due tre e quattro punti alti gli ultimi punti alti del secondo giro ecco il nostro secondo giro ok? adesso una catenella una catenella giriamo sempre così sempre così facciamo nel primo punto alto un punto alto poi nel secondo un punto alto un attimo che devo guardare per bene sì qua abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque scusate scusate sì allora ho fatto un punto alto cioè questo terzo giro questo terzo giro si lavora tutto così il terzo giro si lavora tutto così un punto alto una catenella saltiamo un punto alto facciamo un punto alto nel prossimo tutto a caselle una catenella saltiamo un punto alto nel prossimo facciamo un punto alto una catenella saltiamo una catenella nel punto alto facciamo un punto alto quindi il terzo giro perché diciamo che questo modello possiamo immaginarlo così questi sono i tre giri che si lavorano con un colore dopodiché vedete uno, due, tre giri che si lavorano con un colore dopo si cambia il colore si lavora il giro dei punti puff che è questo qua con i punti puff e poi si comincia a lavorare di nuovo dal primo giro quindi uno, due, tre poi di nuovo si cambia il colore si lavora il giro con i punti puff e di nuovo i giri di base uno, due, tre che sono questi una catenella saltiamo una catenella nel punto alto facciamo un punto alto poi una catenella saltiamo una catenella nel punto alto facciamo un punto alto una catenella saltiamo un punto alto nel prossimo punto alto facciamo un punto alto una catenella saltiamo una catenella stavolta e andiamo avanti così praticamente sopra le nostre tre caselle del giro precedente facciamo altre tre e sopra il nostro gruppo da tre punti alti facciamo un punto alto catenella un punto alto ok abbiamo finito la prima parte come dicevo del lavoro e le forbici e tagliamo per cambiare tagliamo il filo perché dobbiamo proprio cambiare il colore ok quindi questa è la base è la prima parte sì questa questa è la prima parte del lavoro e questa qua magari si vede meglio vedete quindi primo lavoriamo set da sette con una catenella tra di loro sette punti alti una catenella tra di loro dopodiché lavoriamo questo giro secondo qua con tre caselle sopra lo spazio di una catenella una in mezzo una a destra una a sinistra gruppo da tre tre caselle gruppo da tre e poi sempre solo caselle il terzo il terzo giro è proprio il più semplice facciamo solo delle caselle bene e adesso come vi dicevo cambiamo il colore così entriamo con l'uncinetto nel proprio primo punto alto mettiamo aggiungiamo il nostro nuovo colore una catenella e lavoriamo un punto alto eccolo qua bene così aggiungiamo un punto alto e adesso vediamo un po' vediamo un po' si cominciamo a lavorare così guardate filo sull'uncinetto entriamo quindi noi abbiamo dobbiamo tenere presente questa cioè come fare spiegare questo punto questo qua il puff si lavora sul nostro triangolino questa è la punta del triangolino poi uno due tre quattro vedete sarebbe questo così come immagine quindi io entro filo sull'uncinetto entro nella casella questa qua entro prendo da indietro prendo da indietro così allo stesso livello del punto alto filo sull'uncinetto e faccio questa cosa un'altra volta sempre nella stessa casella ok tiro forte e rimango così adesso filo sull'uncinetto e dentro e dentro qua nel primo giro dove ho fatto lo spazio da una catenella prendo il filo da indietro lo tiro tramite lo spazio da una catenella e lo tiro allo stesso livello uno poi filo sull'uncinetto secondo sempre qua poi vengo in questa casella e lavoro ugualmente entro qua prendo il filo da indietro lo tiro allo stesso livello prendo di nuovo il filo da indietro e lo tiro allo stesso livello bene fin qua siamo a posto adesso filo sull'uncinetto dobbiamo passare tramite tutto così e fare una catenella per chiudere voilà adesso lavoro un punto alto nel punto alto poi nella casella sopra il gruppo da tre lavoro un punto alto nella catenella nello spazio di una catenella e ancora un punto alto nel punto alto vedete quindi praticamente io ho lavorato un altro gruppo da tre uno due tre anche qua uno due tre ok ho fatto una casella chiusa adesso di nuovo ho il triangolo quindi filo sull'uncinetto entro nella casella qua prendo il filo lo tiro allo stesso livello filo sull'uncinetto di nuovo così due volte poi filo sull'uncinetto entro qua nel primo giro nello spazio nello spazio da una catenella e tiro il filo così tengo stretto tutto entro di nuovo nello stesso spazio da una catenella e tiro il filo così adesso entro in questa casella filo sull'uncinetto entro nella casella prendo il filo da indietro e lo tiro così poi di nuovo filo sull'uncinetto nella stessa casella due volte facciamo questa cosa in ogni casella filo sull'uncinetto passiamo tramite tutto e chiudiamo con una catenella così di nuovo nel primo punto alto faccio un punto alto nella casella nello spazio da una catenella faccio un punto alto e nel punto alto faccio un punto alto poi comincio di nuovo a lavorare i punti puff che li lavoro così uno qua qua e qua quindi in questa e in questa e in questa non lavoro niente perché lavoro in questa sotto in questa in questa in questa e proprio vedete si forma un triangolo ok va bene quindi per lavorare questo punto puff dovete avere il filo molto molto libero perché se no non vi escono belli e devono proprio venire così quindi filo sull'uncinetto entriamo nella prima casella tiriamo da indietro il filo e lo alziamo allo stesso livello poi filo sull'uncinetto nella stessa casella facciamo ancora una volta la stessa cosa bene filo sull'uncinetto entriamo nella casella dal primo punto primo giro nello spazio da una catenella tiriamo il filo uno e la seconda volta bene e adesso filo sull'uncinetto nella casella qua uno due bene teniamo per bene filo sull'uncinetto passiamo tramite il tutto e facciamo una catenella per chiudere poi facciamo un punto alto sopra il prossimo punto alto qua nello spazio da una catenella facciamo un punto alto nel punto alto un punto alto viene un po' stretto questo giro ma non vi preoccupate deve venire così bene e adesso facciamo ancora una volta perché abbiamo ancora un punto qua e uno qua uno qua filo sull'uncinetto entriamo nella casella qua prendiamo il filo lo tiriamo allo stesso livello del punto alto ancora una volta poi filo sull'uncinetto andiamo qua prendiamo così il filo da indietro e lo tiriamo ancora una volta qua bene così e poi filo sull'uncinetto andiamo nell'ultima casella e lavoriamo un punto puff di nuovo ok ecco filo sull'uncinetto passiamo tramite tutti e chiudiamo poi facciamo uno punto alto nella casella un punto alto un punto alto un punto alto qua nello spazio da una catenella e un punto alto nell'ultimo punto alto quindi finiamo con cinque punti alti uno due tre quattro cinque cinque punti alti per finire ok abbiamo cominciato qua con un punto alto e qua finiamo con cinque punti alti ecco è così che deve venire il nostro modello e adesso dobbiamo ripetere uno due tre questi tre che li abbiamo fatti col giallo quindi una catenella ci giriamo adesso è molto più semplice perché sappiamo dove abbiamo bisogno delle caselle abbiamo bisogno qua nel primo giro qua dobbiamo fare una casella sopra questo qua sopra il puff diciamo quindi ci giriamo e qua facciamo così uno due tre quattro e cinque punti alti no cinque poi facciamo una catenella saltiamo il punto puff e qua nel primo punto qua ops facciamo un punto alto uno due tre quattro cinque scusate cinque però dobbiamo vedere guardare qua noi abbiamo sette uno due tre quattro cinque sei sette punti alti uno due tre quattro cinque sei sette fino al primo punto prima catenella perciò perciò dobbiamo ottenere sette anche quassù uno due tre quattro cinque e altri due li mettiamo qua nello spazio proprio nello spazio che si è formato tra il primo punto alto e il primo puff diciamo qua vedete qua entro e faccio uno due così ho completato con sette punti alti poi faccio una catenella saltiamo il punto puff e da quest'altra parte qua entro e scusate entro e faccio ancora due punti alti uno e due perché perché praticamente io quando faccio il modello questo qua del punto puff salto dei punti invece quando è per questo che un po' il nostro giro dei punti puff viene un po' più stretto stringo un po' il lavoro quando ricomincio con uno due tre questi tre devo rifare il numero di punti quindi uno due tre quattro cinque sei sette abbiamo sette abbiamo sette bene di di nuovo abbiamo sette qua dobbiamo avere sette anche qua ho messo due qua lavoro i miei i miei tre punti alti uno due tre e aggiungo altri due qua proprio in questo buco creato qua uno due faccio una catenella e sempre qua tra il punto puff e il primo punto del gruppo da tre proprio qua nello spazio aggiungo due punti alti uno due poi lavoro questi tre uno faccio una catenella salto il punto puff no scusate lavoro sempre nello spazio tra il punto puff e il punto ultimo punto alto lavorato ancora due cioè dobbiamo aggiungere l'idea è che dobbiamo aggiungere da un lato e dall'altro dei punti puff lavorati due due coppie diciamo due coppie da punti alti di punti alti per realizzare il nostro numero di base diciamo da dove siamo partiti con quale siamo partiti partite insomma ok ho messo due faccio una catenella e qua di nuovo nello spazio tra il primo punto alto e il punto puff faccio uno due punti alti poi lavoro i miei tre punti alti uno due tre ok tre poi qua tra il punto puff e l'ultimo punto alto di nuovo lavoro due punti alti poi una catenella e qua che ho solo un punto alto e devo finire con uno due tre no allora metto ancora due punti alti uno e due e lavoro l'ultimo punto alto qua ecco così ne ho tre quindi adesso sì che ho la base di partenza questa ho fatto uno due tre quattro quindi sette per quattro ventotto ventotto più tre sono trentuno uno due uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici dici sette diciotto diciannove venti ventuno ventidue ventitré ventiquattro venticinque ventisei ventisette ventotto ventinove trenta e trentuno normalmente noi adesso dobbiamo avere trentuno anche a qui anche qua e come vedete li abbiamo perché abbiamo tre qua sette 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 e sette patro per sette ventotto più tre sono trentuno quindi spero che un po' mi sono anch'io persa però è questo il giro che diciamo è un po' più difficile di ripresa ok come vi dicevo il modello si divide in due parti la prima parte è questa in quale creiamo la base per il punto puff quindi uno due tre questi tre giri sono la prima parte è la più importante perché dopo avete visto il punto puff è molto semplice da fare praticamente la base che è la più difficile questa di uno due tre punti adesso spero che abbiate di nuovo capito anche la geometria diciamo delle caselle avendo qua 31 quando abbiamo finito il punto puff noi praticamente abbiamo lavorato gruppi da tre punti alti punto puff tre punti alti punto puff tre puff tre puff uno abbiamo coperto delle caselle quindi abbiamo perso dei punti ecco questi punti nel primo giro del del modello quindi questo qua che l'abbiamo ripreso dovevamo rimetterli e li abbiamo rimessi da una parte e dall'altra del punto puff perché qua avevamo uno due tre quattro cinque più due che li abbiamo aggiunti sono sette abbiamo fatto una catenella sette catenella sette catenella sette e tre abbiamo finito con tre come abbiamo finito qua adesso possiamo riprendere il modello facciamo una catenella qua abbiamo tre e facciamo così un punto alto sopra il primo punto alto adesso già ripetiamo proprio tutto qua abbiamo avuto una casella facciamo una casella tuttora anche adesso uno anche in questo giro una catenella e un punto su questi tre come abbiamo fatto qua vedete questi tre e poi la casella nel secondo punto facciamo lo stesso una catenella poi saltiamo la catenella qua facciamo così una catenella saltiamo un punto alto entriamo e facciamo nel prossimo un punto alto abbiamo fatto tre adesso dobbiamo continuare dobbiamo fare il gruppo da tre punti alti uno due tre adesso come vi dicevo è semplice vedete tre punti alti questo è il secondo è questo che deve deve essere uguale a questo il secondo punto tre o tre tre caselle tre punti alti andiamo avanti così allora ho finito il mio secondo giro da questi tre quindi è questo è il secondo è questo che l'ho finito ho fatto già il triangolino vedete sopra dove posso lavorare il puff però devo fare anche il terzo giro quello solo di caselle questo qua facciamo solo caselle l'ho finito con cinque qua l'ho finito con cinque uno due tre quattro cinque quindi certo che anche qua dovevo finire con cinque se no era un problema quindi non vi scordate molto importante dopo aver finito il giro diciamo la parte seconda come vi dicevo del lavoro questo del punto puff il giro con i punti puff non vi scordate di aggiungere i due le coppie di punti alti da una parte e dall'altra del punto puff perché se vi scordate dopo non vi escono i punti comunque dopo aver fatto il primo giro questo qua rifatto contate i punti per essere sicuri che li avete tutti e adesso facciamo come vi dicevo il punto il terzo giro quello delle caselle quindi un punto alto una catenella saltiamo il punto alto e facciamo un altro nel prossimo una catenella saltiamo un punto alto nel prossimo facciamo un punto alto una catenella saltiamo una catenella e nel punto alto facciamo un punto alto praticamente sopra le caselle facciamo proprio altre tre una catenella entriamo facciamo un punto alto e così via nel gruppo da tre facciamo una casella come vi dicevo è la stessa cioè la base per creare la base diciamo per questi punti puff dobbiamo fare la stessa cosa lavoriamo praticamente il filet crochet cioè una casella piena è formata da tre punti alti una casella vuota è formata da un punto alto una catenella e un punto alto ok una catenella un punto alto e andiamo avanti così dopodiché facciamo il punto cambiamo il colore e facciamo il giro con i punti puff ok ho finito anche il terzo punto della prima parte del modello e adesso posso cambiare di nuovo il colore potete lavorare in due colori in diversi colori ecco io qua comincio una sciarpa e la voglio fare con tutti i colori che li ho insomma tutti tutto ciò che trovo in casa metto qua per fare una sciarpa coloratissima e comincio con questo rosso che è un po' bruttino ma qua in combinazione lo posso anche smaltire diciamo facciamo il nodino iniziale giriamo no perché normalmente dobbiamo girare entriamo qua e cominciamo cioè facciamo la seconda parte la parte del punto puff quella che ve l'ho già fatta vedere quindi nel primo punto facciamo ops come dicevo un punto alto ho fatto un punto alto ok e comincio a lavorare il punto puff il punto puff praticamente io ho la terza nella nel terzo giro della prima parte del modello quindi uno due tre questi tre io non lavoro a niente lavoro nel secondo e nel primo uno due tre in questi in queste caselle lavoro ok uno due tre avviciniamo un attimo vi faccio di nuovo vedere come si fa il punto puff qua e poi spero che siamo capite uno due tre entro in questo il primo prendo il filo da indietro così un filo sull'uncinetto di nuovo entro nello stesso due poi entro qua filo sull'uncinetto entro prendo da indietro il filo e lo alzo per bene tengo così filo sull'uncinetto di nuovo qua prendo il filo lo tiro ok completata anche la seconda casella filo sull'uncinetto la terza qua entro prendo il filo filo sull'uncinetto di nuovo entro prendo il filo e siamo pronte filo sull'uncinetto per chiudere con una catenella poi in questo punto alto faccio un punto alto nella catenella un punto alto e nel punto alto un punto alto e poi faccio un altro giro di punti puff ecco sopra faccio un altro giro di punti puff qua qua e qua dopodiché ripeto da questo giro qua non dimenticate di mettere le coppie di punti alti ok spero che vi sia piaciuto a me è piaciuto moltissimo come modello come vedete lo potete lavorare sia così che fare una cuffietta per chiudere non ho fatto altro che fare due o tre giri di diminuzioni e poi dopo mi è rimasto un buco qua che proprio l'ho chiuso e stretto quindi niente altro poi dopo sono venuta qua ho fatto un giro di punti bassi e un giro di punto gambero alla fine proprio ok al prossimo video